questo teatro è nato circa progettualmente mi pare alla metà degli anni 80 io ero su questa stessa collina dove ora sorge il teatro assieme alle mie pecore e vedevo questo paesaggio magnifico allontanarsi sullo sfondo e scomparire quasi nell'infinito e ho concepito la possibilità di edificare nello stesso luogo un teatro che racchiudesse quello che noi chiamiamo mannira cioè il luogo dove le pecore vengono a stare per proteggersi dalle intemperie il teatro ha una sua scena centrale che all'inizio era un'ellisse ispirata al periplo che compie la terra girando attorno al sole mentre la cavea è composta da queste 108 stelle che sono state riportate fedelmente attraverso una griglia attraverso una griglia composita sistemate nella stessa identica posizione delle 108 stelle della costellazione di andromeda questo non è il valore potrebbe essere un valore aggiunto ma il valore in sé è l'idea iniziale cioè quando al posto di quelle di queste di queste sedile e c'erano delle pecore e questo mi riporta al mio mondo alla mia nascita diciamo fuori dagli schemi e fuori da tutto quello che è l'ordinario diciamo del nascere e crescere scultore ho iniziato molto presto a scolpire e l'ho fatto diciamo nella natura e per la natura perché quando si sta dietro un greggio di pecora è facile trovare della creta dove le pecore si erano prima abbeverate oppure trovare una radica d'olivo dove poter incidere una figura che in qualche maniera diventa antropomorfa questo l'ho fatto senza avere alcun riferimento né culturale né tanto meno diciamo tecnici nessuno poteva dirmi se in quel momento poteva aggiustare la creta in una certa maniera oppure utilizzare a posto dello scalpellino una sgorbia questo è durato parecchi anni almeno sette otto anni ho preso invece coscienza che la scultura poteva avere un codice una sua cifra stilistica attraverso una grammatica seguendo i corsi purtroppo breve del maestro gabriele zambardino a napoli durante la mia permanenza nel come soldato di leva a napoli era il 1979 avevo 19 anni e avevo in quel momento compreso che la scultura poteva diventare il mio mestiere e questo mestiere lo è diventato scendendo appunto da napoli litigando con mio padre che mi voleva ancora pastore fino insomma a fermare questa possibilità di vita e di lavoro e questo accadde perché riusci a mettere attraverso giorni di fatica una una serie di mostre nate appunto portandomi dietro il lavoro e il greggio per per giorni e riusci a allestire la mia prima mostra nel mio piccolo paese santo stefano quesquina dove fortunosamente riusci a vendere tutto e così potrei affermare la mia indipendenza nei confronti di mio padre che in quel momento pensavo fosse per me solo un'illusione basta diciamo che negli anni seguenti sono riuscito a elaborare a uscire anche da una certa figurazione e ho cercato come dire una scultura che che mi appartenesse in maniera più totalizzante e di questi lavori torno a dire non ne posso non ne voglio parlare perché l'opera d'arte non può essere torno a dire spiegata ma solo raccontata e la parola è soltanto una una protesi una protesi che non restituisce minimamente l'emozione che l'artista riesce con il suo linguaggio che diventa poi conoscenza e poi essi innanzitutto quindi ho difficoltà a parlare del mio lavoro e sia credo giusto e mi illecito tacerne